La ciotola Piazza Marinai d'Italia 10 a Portoferraio La minoranza consigliare di Portoferraio contro i lavori previsti per il bar La Gran Guardia nella Porta a Mare si tratta della realizzazione di una scala di emergenza interna che conduce alla terrazza sulla porta. Perché, chiede Antonella Giuzio, non prevedere una scala esterna e materiale idoneo che dalla terrazza della Porta a Mare porti in Piazza Cavour, magari nascosta in parte da uno dei due chioschi? Non sta a me fare le verifiche tecniche, considera la consigliera, ma in qualità di consigliere comunale e soprattutto di cittadino mi sento in dovere di non tacere su quello che si prospetta come un danno scelerato e irreparabile per il patrimonio storico e architettonico di Portoferraio. A rispondere a Giuzio, il vice sindaco delegato alla cultura Roberto Marini, che fa presente come l'intervento, abbia ottenuto tutte le autorizzazioni del caso e arrivi dopo un itere iniziato prima dell'insediamento della giunta attuale. Nel 2015, dice Marini, c'è ancora chi è contrario al reimpiego degli edifici e monumenti storici, preferiscono farli morire e deperire anziché farli godere a tutti. Immediata la risposta della consigliera Giuzio. Sono assolutamente d'accordo, scrive, sull'utilizzo di edifici e monumenti storici, ma questo intervento viola in modo irreparabile un monumento. La realizzazione della scala sarà possibile solo intervenendo sulla terrazza e rompendo una pavimentazione del 500 per dovere di cronaca. Termina. La nostra amministrazione non ha rilasciato alcuna autorizzazione ai lavori. Esiste una lettera, firma dell'allora dirigente Mauro Parigi, inviata all'insaputa della giunta a pochi giorni dalle elezioni. Ho rivolto un appello a chi dovrebbe tutelare la conservazione e la valorizzazione dei beni storici e architettonici. Mi auguro che non sia troppo tardi. Non siamo solo affittuari, precisa invece il sindaco di Portoferraio Mario Ferrari, le competenze sui lavori da effettuare non sono nostre. Noi, per quanto riguarda la Porta a Mare, siamo affittuari, la proprietà è del demanio, la competenza è rilasciare eventuali autorizzazioni e della sovrintendenza. Mi risulta che la sovrintendenza si sia espressa positivamente senza che il Comune si sia attivato per sollecitare un'espressione positiva. Ci siamo attivati per vedere ridotto l'onere che noi paghiamo al demanio in quanto la nostra fruibilità viene in parte ridotta. Senza però limitare la funzionalità che vede coinvolto l'immobile con le nostre attività, con i nostri principi. Che vi devo dire? Tra i due litiganti il terzo gode, ma qui non ci sono soggetti che possono godere del litigio di due soggetti che forse a volte non hanno nemmeno chiara la situazione.